In questa campagna ci occupiamo di vedere quali sono le best practices per impostare una campagna specifica per i dispositivi mobile, in particolare per smartphone, evitando di sprecare del traffico su dispositivi che invece non hanno nulla a che vedere con quello che vendiamo come i computer desktop. Con le nuove campagne potenziate infatti questo è diventato più difficile da fare e in particolare Stefano Pelati che si occupa soprattutto di campagne con target solo mobile, campagne importanti anche a livello multinazionale, ci spiegherà appunto come puntare in modo principale a questo tipo di traffico e come evitare di sprecare dei soldi su altri tipi di device. Buongiorno a tutti, io sono Stefano Pelati e oggi vi parlerò di campagne mobile, sono un AdWords freelance dal 2010 e gestisco un budget abbastanza importante, insomma mensile e soprattutto una buona parte di questo budget è dedicato a campagne esclusivamente su mobile. Chi si ricorda quello è successo il 22 luglio del 2013? Perché non se lo ricordasse è il giorno in cui sono entrate in vigore le campagne potenziate in modo obbligatorio. Per la maggior parte delle campagne sicuramente non ha dato grandi scompensi perché non è cambiato fondamentalmente, è cambiato poco. Invece per le campagne su mobile è cambiato parecchio, questa è una differenziazione, le campagne WAP, esclusivamente su WAP, intendo le campagne WAP dispositivi tipo vecchi cellulari e non è cambiato niente. Sulle campagne display anche sui browser, quelli dotati di browser completi non è cambiato niente, mentre invece sulle campagne search è cambiato parecchio, nel senso che da un certo punto in avanti quello che prima girava solo su mobile non avrebbe più girato su mobile. Solo su mobile ma anche su desktop. Queste sono le opzioni di targeting che sono rimaste attive sulla campagna display e che erano anche sulla campagna search prima del 22 luglio. Praticamente si poteva scegliere il sistema operativo, il tipo di dispositivo e il tipo di operatore. Ad esempio potevi scegliere di fare una campagna solo su iPhone o solo su Android, eccetera. Ma in questo caso era molto importante il tipo di operatore. Invece sui dispositivi WAP, in questo caso le impostazioni non sono cambiate, sono rimaste identiche e sono fatte a livello di annuncio. A livello di annuncio scavalcano praticamente tutto quello che gli dai dall'altra parte sulle impostazioni della campagna. In questo caso si sceglie il tipo di marcatura e il tipo di operatore. Gli annunci adesso qua non ci sono, però sono annunci anche molto stringati dove non ci puoi mettere quasi niente praticamente. Tipo 17 caratteri, una cosa del genere. Quindi a questo punto ci siamo trovati con una serie di problematiche da risolvere che erano le campagne non più targetizzabili per operatore e per dispositivo. Avremmo avuto un traffico molto importante da desktop e le landing page che non andavano più bene perché prima erano landing page dedicate per tipo di operatore e mentre invece da lì in avanti non era più possibile, perché non era più possibile differenziare la cosa. Per dare un'idea di cosa stiamo parlando, erano campagne e sono campagne strutturate in questo modo. Ad esempio prendiamo le suonerie, c'era una campagna per suonerie web inteso come dispositivi, quelli con il browser completo tipo l'iPhone eccetera, suddivise in search e in display e ogni campagna aveva una campagna per team, una per Vodafone e una per Windows. Così via sul display e stessa cosa per il WAP. Quindi praticamente una categoria, 12 campagne. A questo punto è stato necessario ristrutturare il flusso del lavoro perché si è dovuto creare una campagna unica